Lavoreremo con un progetto di marketing turistico che prevede che il sindaco si faccia parte attiva nella spiegazione e nell'accompagnamento dei turisti in zona. Niente soldi per il turismo? In strada scende il sindaco. Luca De Carlo, già promotore delle tasse sulle griglie contro il turismo mordi e fuggi, lascia la fascia tricolore e accompagna i turisti alla scoperta delle bellezze di Calalzo. Io accompagnerò i turisti per una breve gita a Rizios, che è la perla del calore, e cercherò in quelle due ore di dare una spiegazione su quello che si può fare a Calalzo e nei dintorni. A spasso col sindaco, un'iniziativa per rilanciare il turismo, un impegno che vedrà coinvolto il primo cittadino per tutta l'estate. Appuntamento ogni domenica mattina alle 10 sotto il municipio, poi il tour guidato a Rizios e, per finire, una bella merenda nel segno dell'ospitalità di montagna. Prima uscita il 3 luglio, poi con cadenza settimanale fino a agosto. L'iniziativa verrà presa pubblicizzata in tutti i locali, alberghi e bed and breakfast di Calalzo, oltre 180 strutture, che fanno registrare più di 30.000 presenze all'anno. Una proposta a costo zero, che serve a rimettere in moto il motore economico numero uno della provincia, il turismo. Ma l'impegno del pubblico non è sufficiente, è necessario che tutti si ingegnino per lanciare nuove idee e risvegliare un intero territorio. Perché la più grande cosa che sento dire è che a Calalzo non c'è niente, non è vero. Siamo noi amministratori e noi operatori che magari non siamo in grado di dire a Calalzo cosa c'è. Grazie. Grazie.